America Latina. E a proposito di esuberi, Unicredit ha presentato il piano fino al 2023. In Europa sono previsti 8.000 esuberi e il taglio di 500 filiali. Migliaia di esuberi, centinaia di filiali che chiudono i battenti. L'annuncio arriva stamane in conferenza stampa dall'amministratore delegato di Unicredit, Jean-Pierre Moustier, e da una nota della società. Dopo mesi di rumors, svelato il nuovo piano industriale del gruppo per i prossimi tre anni, si chiama Team 23 e fissa gli obiettivi di medio periodo del colosso bancario. Occhi puntati sull'assetto del personale, si parla di 8.000 tagli fra Italia, Germania e Austria, pari al 12% della forza lavoro e della riduzione di qualcosa come 500 sportelli. Stiamo iniziando ora le trattative con i sindacati, scandisce Moustier, non diamo dettagli su dove questi tagli verranno fatti. Sono fonti sindacali a specificare e a lanciare l'indiscrezione di una riduzione che uscillerebbe nel nostro paese tra 5.500 e 6.000 addetti. Piano industriale che non può essere preso in considerazione, ribatte il segretario generale della Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, Lando Maria Sileoni. Nell'attesa di conoscere le stime ufficiali, riflettori puntati anche sui 16 miliardi di euro di valore per gli azionisti che Unicredit punta a creare nell'arco del prossimo triennio. Il gruppo prevede di realizzare un utile di 5 miliardi nel 2023. Siamo contenti del perimetro della società, aggiunge Moustier. Se ci saranno opportunità di allargarsi, saranno piccole acquisizioni nel centro-est Europa per completare la nostra presenza territoriale, smettendo di fatto le voci di un avvicinamento con il gigante francese, Société Générale.